Maurizio De Leo, tecnico della squadra della Messana, avete perso questa prima partita, era la prima partita ufficiale anche per voi per quanto riguarda la Coppa Sicilia? Abbiamo perso, sì, è stato un test di allenamento perché si può dire che è stata la prima amichevole che abbiamo fatto, pur essendo un torneo di Coppa Italia ufficiale. Abbiamo provato la squadra, purtroppo l'allenatore in prima per motivi di lavoro era assente, l'ho sostituito io, penso che con tanti ragazzi in campo ci siamo comportati bene. Come ha visto la Ionica? La Ionica io l'ho incontrata, adesso c'è stata la fusione fra Ionica e Santa Teresa e Fucci, penso che se hanno intenzione, penso io, se hanno intenzione di vincere il campionato e alcuni elementi secondo me penso che dovranno rafforzare l'assalto, io a titolo personale lo dico. Per quanto riguarda invece la sua Messana? La mia Messana secondo me farà un campionato dignitoso, da medio atta classifica e speriamo che sia questo. Secondo lei è più forte il girone catanese oppure quello cosiddetto messinese? No, il girone messinese secondo me è più forte, il girone catanese dove è stata inserita la Ionica è un pochettino meno forte. Nonostante Tre Castagne, Cicatene, squadre che hanno giocato anche in Serie D? Sì, penso che a Cicatene e Tre Castagne questa è la differenza perché sono squadre di categoria superiore come si sa, con la speranza che la Ionica possa fare di tutto per vincere il campionato, io glielo auguro, ai tifosi e ai dirigenti. Grazie a tutti.